qui i problemi iniziano già con questa strettoia le macchine parcheggiate sempre sui marciapiedi impediscono anche qui il passaggio di due macchine e qui parte questa strada bellissima senza illuminazione piena di buche senza una messa in sicurezza per i pedoni abbiamo scelto un momento poco trafficato ma garantisco che qui passano anche i bambini per andare a scuola passano bambini a piedi la sera ci sono persone che portano a giro i cani a fare i bisognini guardate quante buche sembra di fare il camel trophy qui è completamente buio la sera completamente iniziano qui l'illuminazione ma tutto il tratto che abbiamo visto fino ad ora era completamente buio è completamente buio